Una delle cose più salienti che mi interesserebbe chiederti è, per quella che è la tua esperienza, l'approccio, l'adozione e l'utilizzo dei social media nella pubblica amministrazione va a una velocità diversa rispetto alle aziende private? Direi che senz'altro le marce sono diverse, dobbiamo mettere in evidenza almeno due elementi. Uno è che comunque anche nelle aziende private spesso la velocità non è tale come si vorrebbe pensare, spesso anche le aziende fanno fatica a comprendere davvero la portata della rivoluzione che sta vivendo la società e che solo di riflesso vivono le aziende. Per la prima volta noi siamo di fronte a un sistema di tecnologie e un contesto relazionale in cui il driver è davvero di cambiamenti e in cui le aziende sono costrette a giocare di rimessa, nel senso che devono adeguarsi a un cambiamento. Di solito sono le aziende a dettare i ritmi di alcuni cambiamenti, soprattutto nel mercato. In questo caso le aziende sono state spesso prese in contropiede, prese in contropiede da un mondo che è cambiato. E in questo ovviamente l'amministrazione vive elevandolo al quadrato, all'ennesima potenza, questo problema. Perché? Perché se le aziende, una volta che si rendono conto del fatto che il mondo è cambiato, devono semplicemente, anche se ciò in effetti non è così semplice, adeguarsi al cambiamento e in questi modelli l'amministrazione prima di adeguarsi al cambiamento deve fare i conti con uno scenario normativo che spesso è complesso, con dei problemi di competenze interne che spesso sono difficili da gestire, con un contesto complessivo di tipo culturale che è spesso molto molto complicato da eradicare. Prendiamo l'esempio della pubblica amministrazione per un momento. Avrai visto anche tu le ultime notizie di questi ultimi giorni, ovvero che il sito Istat organizzato per il censimento di quest'anno è miseramente crollato. Che cosa ne pensi di questo avvenimento? Semplicemente penso che ancora una volta l'amministrazione non si è resa conto del fatto che al di fuori dei suoi confini c'è un mondo che cresce molto più rapidamente di quanto mai non pensi. E il fatto che il sito di internet sia crollato dipende semplicemente da un calcolo del dimensionamento degli accessi mal fatto. E dipende dal fatto che oggi l'amministrazione non si rende conto che, tanto per dare un dato, solo Facebook totalizza più di 17 milioni di persone che tutti i giorni si collegano. Questa massa di persone comincia ad essere sempre più abituata a fare le cose online che l'amministrazione pubblica rende conto o meno. Il crollo del sito dell'Istat è in qualche modo la metafora dell'ineadeguatezza della pubblica amministrazione a rendersi conto della rapidità del cambiamento. Per quel che riguarda invece l'approccio che stanno avendo i politici italiani ai social media? Ecco, questo è un tema complesso. Noi con un gruppo di ricerca da alcuni anni stiamo analizzando le attività dei politici italiani in rete e abbiamo analizzato dal 2008 le dinamiche relazionali di alcuni gruppi italiani politici, in particolare tutti i parlamentari, i sindaci dei capologhi di provincia e un campione di giovani amministratori, essendo i giovani amministratori locali, assessori, consiglieri e sindaci al di sotto dei 30 anni. E vediamo che la situazione negli anni è molto cambiata. Pensa che quando abbiamo cominciato a fare questo tipo di analisi con i parlamentari di fatto l'eccezione era che il parlamentare fosse online. Oggi la vera eccezione è quello che non è in assoluto online e questo vale per tutti quanti di governo, locale o centrale. Il vero problema è che spesso, pur essendo online, non hanno la più palle di idea di cosa stanno facendo, nel senso che riportano su uno strumento nuovo che ha delle regole nuove e soprattutto si riferisce a un contesto completamente nuovo, riportano delle regole e delle modalità di comportamento che sono tipiche della gestione che fanno e che hanno fatto in passato degli strumenti mainstream, quindi delle televisioni, dei giornali e quant'altro. Questo vuol dire che sono completamente spesso, con fulgide eccezioni intendiamoci, ma sono completamente inadeguati a gestire la relazione online. Ma c'è qualcosa di più importante, di più drammaticamente grave che emerge andando ad analizzare il comportamento di molti politici, soprattutto quando si fa riferimento ai politici nazionali, quindi ai parlamentari. Qual è questo problema? Il problema è che se per quanto riguarda i politici locali il problema è un problema di competenze a volte, per quanto riguarda i politici nazionali il problema è un problema di interesse. Di interesse nel senso che tutto sommato quando andiamo ad intervistarli e chiedergli per quale motivo non sono presenti attivamente su Facebook o se lo sono perché non dialogano realmente con le persone, ci si rende conto per loro stessa che andiamo ad ammissione e con il nostro sistema elettorale, tutto sommato il dialogo con le persone è un fastidio che se si può evitare è un problema. Abbiamo visto negli ultimi tempi che il rapporto tra la politica italiana e la rete non è proprio dei migliori, soprattutto per quello che è stato recentemente il DDL intercettazioni, il coma 29, che ha sollevato un'ondata di protesta effettivamente sul web. Poi sembrerebbe che con gli emendamenti che sono passati la situazione sia rientrata, però pensi che ci riproveranno? Ma sai, io su questo ho una visione un po' più cinica di quella comunemente condivisa, nel senso che non ho ancora capito se alcuni attacchi alla libertà della rete, che in alcuni casi sono evidentemente strutturati e costruiti, ma in altri casi sono probabilmente frutto non tanto di volontà di danneggiare la rete, quanto piuttosto della semplice ignoranza delle realtà della rete. A volte i politici non vogliono mettere il bavaglio di internet o limitare la libertà della libertà senza sapere quello che stanno facendo, perché? Perché sono così lontani da questo contesto che non hanno la percezione del fatto che il contesto, il mondo è cambiato da alcuni anni e che identificare degli elementi normativi che siano in qualche modo limitanti e lesivi delle libertà individuali a queste libertà alla rete generano una retroazione che è di una forza madornale. Quindi in realtà io penso che non si tratterà del fatto che riproveranno ad attaccare la rete, sicuramente faranno qualche altra norma che toccherà consapevolmente la sua libertà, perché? Perché proprio in questo contesto di ignoranza a volte invece si innesca un meccanismo di preordinazione del fatto, cioè su ogni n norme che vengono concepite semplicemente perché non si sa bene quali risultati avranno sulla rete, alcune vengono fatte per risolvere i problemi di qualcuno. A proposito di esempi di utilizzo a parte dei politici di internet, qualche giorno fa, sicuramente avrai visto anche tu, c'è stato il fenomeno tunnel germini che è diventato un trending topic molto rapidamente. Il problema, al di là del fatto che ci abbiamo scherzato su e ne abbiamo parlato, è che poi quel comunicato è stato cancellato, cosa che ha creato l'indignazione ancora più del comunicato stesso in molti utenti. Volevo sapere la tua su questo. Ancora una volta, molto banalmente, si muovono su un terreno che non conoscono, usano dei comportamenti che sarebbero in qualche modo possibili, se non dico corretti, ma possibili in altri contesti e non si rendono conto che a volte quella che pensano sia una cura è peggiore del male e quindi fa bene la rete a indignarsi, ma per due motivi, uno perché il comportamento che a volte alcuni politici, anche ricoprendo incarichi istituzionali hanno nei confronti della rete è scorretto e il secondo motivo è che comunque, oltre a essere scorretto, è un comportamento che rende manifesta la loro incapacità di rapportarsi a un contesto sociale nuovo. Si è parlato a lungo, tra l'altro in questi mesi, di quello che può essere l'effetto della rete sui risultati di elezioni, piuttosto che referendum in estate, ma visto che c'è stato un monitoraggio molto attento di quelle che sono state le attività di politici online, volevo chiederti se c'è un vero parallelismo tra le attività politiche, diciamo di comunicazione politica online e quelli che sono gli esiti poi di elezioni e risultati elettorali. Ma è difficilissimo dire quanto la rete influenzi davvero l'andamento del voto, io ancora una volta penso che sia importante sintomi e cause, nel senso che prendiamo ad esempio il caso più eclatante, i casi eclatanti in questo momento sono due in Italia, quello dei referendum e quello della campagna elettorale milanese. Ecco, a partire dal, e anche in questo caso secondo me sono emerse luce e ombre sia della comunicazione politica che della rete. Prendiamo ad esempio per partire il caso delle elezioni amministrative a Milano, io non credo che se non ci fosse stata la rete avrebbe vinto la Moratti, ciò che è certo è che la rete, i denti, alcuni comportamenti della Moratti e li ha amplificati tanto in rete, quanto attraverso i media mainstream, in altri termini della moschia di Sukate piuttosto che delle Moratti quotes, ne hanno sentito parlare molte più persone attraverso i media mainstream che hanno fatto rimbalzare questa informazione rispetto a quante non abbiano in effetti vissuto gli impatti su Twitter e questo gioco di specchi e di rimandi tra la rete e gli strumenti di comunicazione tradizionale è forse la vera novità di questa campagna elettorale, di questa tornata elettorale, la rete è entrata davvero nei processi della campagna elettorale, ha determinato gli esiti, senz'altro ne ha determinato l'agenda e l'andamento in un contesto in cui se andiamo a verificare quello che è successo, tutte, tutte le idee vincenti di questa campagna elettorale non sono nate dagli staff, dallo staff di comunicazione dei politici, ma sono state abilmente riprese da questi staff, ma sono nate dalla rete, tutte le fasi salienti di questa campagna sono nate dal basso, Sukate è un errore ripreso, Tunnel Gelmini è un errore ripreso, pensando a tutti quanti gli eventi, sono tutte quante cose che la rete ha notato, che ha evidenziato e che poi spesso sono state riprese dagli staff elettorali e trasformate in punti di forza per il candidato, e questo per quanto riguarda il tema delle amministrative, ma pensiamo anche a quello che è successo in termini di trasferimento del messaggio che è molto più evidente nella tornata referendaria, questa volta sì i referendum hanno dimostrato come la rete sia entrata nelle abitudini e nei comportamenti delle persone in un contesto in cui qualcuno arriva a dire che forse se si è arrivati al quorum è anche merito della rete, ancora una volta in realtà non abbiamo dati per dimostrare quanto la rete abbia effettivamente spostato in termini percentuali, è che centinaia di migliaia di persone, forse milioni di persone hanno saputo dei referendum grazie alla rete, per contro la rete ha anche dimostrato di avere e questo forse invece è un'ombra che dobbiamo buttare sulla rete, una scarsa capacità di critica e di dibattito, nel senso che se andiamo ad analizzare i messaggi che sono passati per i referendum, noi vediamo che di fatto almeno uno dei referendum, e non sto facendo una valutazione politica, ma semplicemente sulla tipologia di messaggio che è passato almeno uno, quello sull'acqua, è passato in maniera completamente acritica su un messaggio che è stato strutturato in maniera fuorviante, la privatizzazione non era dell'acqua, ovviamente il messaggio che è veicolato, al pari di come sarebbe successo se fossimo stati su un media mainstream, è stato che si voleva privatizzare l'acqua e non si è stato in grado di costruire un reale contraddittorio sul fatto che in realtà non era l'acqua ma le società di gestione, e quindi la rete ha dimostrato in questo caso di essere un grande amplificatore, ma di non essere stata in grado di costruire una discussione attorno a un messaggio che era in qualche modo fuorviante, ora indipendentemente dal fatto che questo messaggio fosse fuorviante in positivo e in negativo, ciò che è certo è che il messaggio non è stato discusso come invece la rete consentirebbe di fare.